Incidente mortale oggi pomeriggio poco dopo le 14 a Vertenigo di Santa Maria di Sala. La vittima è Alex, trovò Padovano di 18 anni, residente a Borgorico. Lo schianto in via Desma, mentre lo studente stava tornando a casa da scuola in sella alla sua moto. Il diciottenne si è scontrato violentemente contro un'auto e per lui non c'è stato più nulla da fare. I soccorsi, sebbene tempestivi, sono risultati vani. Il personale medico arrivato sul posto, nonostante si sia prodigato per salvare la vita del giovane, ne ha solo potuto constatare il decesso. Sul luogo del mortale è raggiunto anche l'elicottero del SUEM, poi fatto rientrare. Tra i primi ad intervenire è anche i militari dell'arma, subito al lavoro per stabilire le dinamiche dello scontro e regolare il traffico. Dalle prime informazioni, ma le indagini sono ancora in corso, lo scontro potrebbe essere avvenuto per una precedenza non rispettata. Alla guida dell'auto un 48enne rappresentante di commercio ancora sotto shock per quanto accaduto.